C'è chi in fondo lo siamo tutti, lo siamo tutti perché spesso siamo troppo concentrati su noi stessi e chi ha lo sguardo troppo rivolto dentro di sé chiaramente fa fatica a vedere fuori e il fuori inesorabilmente a un certo punto si presenta con la forza e la brutalità che come uno schiaffo poi ci fa aprire gli occhi. Cosa non vediamo? Non è che non vediamo quello che ci succede intorno è che tendiamo a giustificarlo secondo un nostro filologico, secondo la nostra interpretazione che spesso è di comodo e questo naturalmente lentamente ci fa costruire una narrazione parallela e soggettiva della realtà che ci circonda e ci distanzia dalle cose e un po' questo testo è come se improvvisamente fosse una sorta di precipitato di realtà all'interno di una narrazione che non lo considera. Ma perché? Perché penso che siamo tutti un po' vittime e al tempo stesso artefici e quindi complici di un'enfatizzazione del terrore che ci fa individuare dei capri espiatori che ci rassicurano e ci presentano in qualche maniera i nemici contro cui scagliarci, insomma i responsabili di quello che ci succede. Quello che trovo estremamente interessante in questo testo di Fabrizio Sinisi, Black Star, è che non rinuncia mai alla complessità della realtà in cui viviamo, per cui esplora un territorio di totale ambiguità dove è difficile comprendere da quale parte stare e credo che questo sia in qualche maniera uno degli aspetti più attraenti di questo testo e più affascinanti, poiché non ci consola e sostanzialmente non ci fornisce un pensiero adeguato in cui sentirsi comodi e credo che dal dal momento in cui si decide di affrontare la realtà, credo sia l'atteggiamento più corretto, quello di non fornire dei luoghi in cui sentirsi protetti sostanzialmente. Grazie. 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 Grazie.